Mente forse be with you, ci troviamo con lo SEO Star Wars Day, oggi 4 maggio 2014, ecco qui dietro potete vedere un caccia della saga di The Wars proprio dalla prima puntata del fine anni 70 1979 dove comincia la saga di Guerre Stellari e questo è un grandissimo evento mondiale e potete vedere appunto l'afflusso delle persone che si trovano al Colosseo il caccia che vedete, questo qui è l'Avance TF Fighter X1 e a breve cominceranno un festeggiamento appunto di Guerre Stellari anticipando l'uscita che uscirà nel 2015 di Guerre Stellari 7, perciò noi nell'attesa per il momento è tutto dal Colosseo Star Wars Day